buongiorno eccoci qua ancora per lavorare sul movimento numero 2 facciamo ancora un altro pochino di lavoro in ginocchio il lavoro in ginocchio ovviamente come dicevo è un pochino più complicato la posizione è con i tipi puntati in giapponese mi chiamano Kiza Nekido il movimento che andiamo a fare è il secondo tipo di sugo quindi partiamo dal movimento normale una volta in giro stiamo chiuso avanzo uno torno in dietro due torno in dietro tre torno in dietro quattro cambio guardia sinistra uno due tre quattro quattro secondo movimento quindi un passo avanti primo attacco secondo passo avanti secondo attacco girare sui sui suoi 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 terzo attacco siamo buon attacco siamo buon attacco e vediamo primo attacco secondo attacco terzo uno due tre quattro cinque sei uno due tre quattro cinque sei uno due tre quattro cinque sei una しく 군 un di un simplest duino Grazie a tutti.